ah no è già partito il video ben ritrovati ben ritrovati come state un saluto a tutti piove piove non potrà piovere per sempre invece piove sempre ben ritrovati come state un abbraccio a tutti vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte attivate anche la campanella mi raccomando segnavo una cosa perché poi me la dimentico l'età avanza ne ho 41 capelli bianchi ci sono tanti anche troppi vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale personale che vi metto qui sotto nel link in descrizione grazie per chi lo farà chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di milano mi raccomando o la terza iscrivetevi perché siamo il milan è un canale di breaking news anche soprattutto di ac milan anche su temi che non riesco a toccare qui più tardi ad esempio ne parlerò sul mio canale personale quindi iscrivetevi subito potete andare tornare parlerò delle parole di cardinale a dubai e quindi attenzione iscrivetevi veniamo alle novità prima però ragazzi mi è venuto in mente che due anni fa due anni fa stavamo vivendo una delle giornate più emozionanti degli ultimi dieci anni di milan io tra l'altro ero allo stadio e c'è la live reaction su youtube su un page di milanello ed è il canale più il video più visto di tutti il famoso il famoso minan atalanta 2 a 0 era due anni fa esatti stavamo per arrivare a toccare il nostro sogno il nostro scudetto dopo una vita dopo 11 anni due anni dopo siamo con un umore decisamente diverso è stata per me una delle partite più emozionanti visto tra l'altro con la mia famiglia allo stadio allo stadio ecco le metto la metto con milan ajax con il gol di thomason barra pippo come partita più emozionante questa sicuramente e poi forse al derby europeo o l'inter inter milan 06 però quella partita qua ragazzi la metto più o meno come quella con l'ajax siamo lì non riesco è come scegliere tra mamma e papà non puoi e le metto lì la partita di due anni fa mamma mia oggi mi rivedrò la live reaction e cercherò di staccare un po' rispetto a questo momento che sicuramente non è esaltante abbiamo novità per quanto riguarda la panchina volevo però ne ho parlato ieri sul mio canale personale non qui su milanello condividere con voi alcune riflessioni sul caso maldini lega e forse di riflesso milan con anche degli approfondimenti delle notizie che ho ricavato sapete che ieri maldini ha fatto sapere attraverso l'ansa che ha dato mandato al suo legale che ieri ho sentito danilo buongiorno di valutare anche azioni legali in seguito a quella che lui definisce una censura della sua intervista rilasciata al canale radio della lega poi a stretto giro di post è arrivato il comunicato invece della lega che ha detto nulla vero accuse false nessuna censura nessuna pressioni abbiamo messo il video oscurato un giorno perché c'erano troppi commenti brutti anche nei confronti dei maldini e quindi abbiamo messo il video su youtube non in elenco perché specializzato di youtube sa che però bastava mettere la funzione come qualche mio collega fa nei momenti dedicati non non commentare impossibilità di mettere i commenti invece di oscurare l'intervista si poteva fare questa cosa qui quindi magari non hanno un'agenzia specializzata che conosce bene youtube male però potevano fare questa cosa qui detto questo sapete che io non sono generoso per niente con questa dirigenza anzi con questa proprietà però vi posso assicurare che da quello che ho verificato che il milan ci dice che ho verificato anche con la lega poi direte c'è sempre beneficio del dubbio per carità il milan non ha fatto nessun tipo di pressione ne ha chiesto nessun tipo di censura ragionando insieme a voce alta risentendo anche ieri l'intervista e quel passaggio tra virgolette incriminato in cui non dice nulla di clamoroso tant'è che quando ho commentato l'intervista ho detto ragazzi intervista da zero a zero come si dice in gergo lui dice l'intervista perché è una struttura organizzata e vedete il napoli ha cambiato direttore sportivo e allenatore e non ha vinto ecco non vorrei è una riflessione che se qualcuno magari ha fatto pressioni qualcuno si è risentito questo qualcuno non è il milan e io questo credo che non sia stato proprio il milan magari ipotesi magari si è risentito dell'aurentis perché in quell'intervista maledini dice il napoli è sbagliato un'altra cosa della quale non tutti per forza dobbiamo essere a conoscenza la radio della serie a e radio della lega che ha 20 club è come se ogni club fosse un editore una parte dell'editore di questa tv di questa radio scusate e quindi è come se qualcuno andasse parlare a male del napoli nella radio del napoli dell'aurentis si risente vi dico i meccanismi quindi ci sa che qualche club abbia detto scusa viene parla male di me nella radio nostra no non mi va bene questo secondo me è il punto ma io credo che questo sono sicuro che non sia stato il milan sia stato qualcuno magari un club che si è più sentito chiamato in causa sicuramente in quella frase è il napoli che viene chiamato in causa però è una mia ipotesi nulla di più detto questo vediamo quali sono gli sviluppi ci può anche stare che sia stato un cortocircuito inescato da dal giornalista da chi ha fatto l'intervista di chi poi ha riferito a maledini magari cose travisate chissà sicuramente però maledini non può sapere direttamente quello che è successo in radio se non attraverso l'intervistatore che magari ha capito male è stata un'incomprensione oppure ha capito giusto ma non era il mina era qualcun altro in questo senso ecco direi che è una vicenda che dovremmo monitorare la cosa che dispiace è che comunque c'è sempre questa sensazione di di avere sempre un avversario di essere sempre in battaglia con qualcuno le parole di scarone che poi dice va sul personale maledini non sarà felice sicuramente non aiutano un clima che è già teso sull'asse maledini milan e però uno dice una cosa l'altro dice l'altra cosa io credo sinceramente che se sono state pressioni queste non le ha fatte il mina lo dico sinceramente da uno che in questo momento non è sicuramente tenero nei confronti di questa società di questa proprietà quindi spero che possiate non dico pensarla come me però comprendere la mia sincerità voltiamo pagina perché sta succedendo davvero di tutto oltre a vicenda maledini la ricerca dell'allenatore lo sapete è una cosa importantissima abbiamo un intreccio clamoroso ci può essere un effetto domino pazzesco intanto la notizia che marcello gaggiardo il quale ha parlato il collega di marzo due giorni fa di sera anche in argentina viene prepotentemente accostato al milan in argentina tc sports parla di un incontro chiesto dalla dirigenza del milan ai manager di gaggiardo per incontrarsi e parlare della proposta calcistica di gaggiardo per cercare di capirne il progetto per cercare di capire si potrà essere un un progetto sovrapponibile perfettamente a quelle che sono le intenzioni del milan sinceramente sapete che su gaggiardo io ho le stesse panchine di gaggiardo in europa in italia ne ha fatto una di panchine in europa quando hanno giocato la finale colpa libertadores con il river con il river a madrid però non allenava una squadra europea detto questo se è vero che chiedono un incontro a gaggiardo del quale si era parlato anche in passato significa che a oggi 15 maggio non hanno ancora davvero forse un nome forte oppure fanno tutto questo per tirare in là e poi dare il nome poi c'è un altro retto pensiero che ora vi dico l'altra notizia che però gaggiardo non ha ancora risolto il suo contratto con la litiad è in trattativa ma al momento ci sono divergenze economiche tra la litiad e gaggiardo per rescindere questo contratto lui prende 22 milioni di euro a stagione vuole rescindere avendo però una buona uscita robusta che la litiad non li vuole riconoscere o comunque in forma molto minore rispetto alle richieste io credo che però siamo arrivati sono arrivati a una rottura e quindi pomeriggio domani credo che siano destinati a separarsi e a quel punto se ti separi però da una squadra che ti dà 22 milioni di euro a stagione o sei un pazzo o hai un'altra squadra un'altra squadra che ti dà quei soldi e non la trovi una squadra che ti dà un progetto sportivo ambizioso la puoi trovare questa potrebbe essere il milan la coincidenza temporale purtroppo è molto singolare anche se una parte di milan mi dice non sarà gaggiardo come una parte di milan continuo a ribadire non sarà con sei sa o che pensate potrebbe fare un percorso diverso le ultime notizie ci dicono che con sei sa o potrebbe andare alla litiad per sostituire gaggiardo da qui l'effetto domino che vi raccontavo con mendes che sta parlando con la dirigenza della litiad per portare con sei sa o con un ingaggio mostruoso questo la trattativa con sei sa o a litiad è una prova in più del fatto che molto probabilmente con sei sa o non verrà al milan detto questo tra gaggiardo e con sei sa o mi prendo tutta la vita con sei sa o c'è anche un retropensiero ve lo racconto una tesi perché in questi momenti si pensa ovviamente alla qualunque conoscendo magari anche i nostri polli la tesi è questa ci propinano le piste gaggiardo lopeteghi qualche altro nome mediocre che è circolato e che tendenzialmente prova a rimuovere per poi dirci va bene non questi qui vi diamo Fonseca e a quel punto avendo magari fiutato la possibilità di finire male ci accontentiamo di un attore discreto questa è la linea di pensiero di tanti tifosi e anche di qualche addetto ai lavori cioè io come dire ti faccio mangiare il carbone ti faccio mangiare il carbone ti faccio mangiare il carbone dai ti do i cracker va bene dai mi faccio andare bene i cracker la tesi che qualcuno sostiene un po' machiavellica però non ci dobbiamo stupire sinceramente di nulla detto questo poi che cosa succede e che cosa sta succedendo che ci confermano sarà un attore straniero su un attore straniero anche ieri ne parlavamo con SWS i nomi sono 4 a oggi quelli un po' più accostati al Milan Fonseca Concei Sao Van Bommel Gaggiardo ci sarebbe anche Potter diciamo 4-5 nomi tra questi secondo me la scelta migliore sarebbe quella di Concei Sao che però si sta allontanando dal Milan in maniera sensibile giorno dopo giorno tra questi io inizio a avere la sensazione che si possa ricadere soprattutto su qualcuno cerco di avere qualche notizia in più e attenzione però perché vi dicevo anche che avrei avuto notizie dirette per quanto riguarda Zirze ebbene su Zirze da zona Zirze da Entourage mi confermano che il Milan è molto forte su Zirze e questa non è una novità però attenzione perché ci sono altri due club italiani su Zirze uno è la Juventus e l'altro sinceramente non so dirvi se è l'Inter o il Napoli non solo su Zirze c'è un club inglese che è l'Arsenal ma c'è anche un club spagnolo e quindi 5 squadre tra cui il Milan su Joshua Zirze è una situazione complicata mi rassicura il fatto che comunque il Milan è ancora forte su Zirze non è un caso che si stia guardando però attorno se esco altrettanto forte perché questa volta non vuoi andare da pieno C pieno D però è una bagarre quella sul ricciolino olandese come direi io clamorosa e quando c'è una bagarre clamorosa tendenzialmente il Milan degli ultimi anni non la spunta vediamo cosa succede e spero di darvi ulteriori notizie appena ce ne saranno su anche su Zirze ho aperto un canale che spero di riuscire a coltivare ulteriormente commentate numerosi con Zirze intendo con entourage lasciate un bel like iscrivetevi da questa parte attivate la campanella e ditemi che ne pensate di tutto questo è la vicenda Maldini la partita più emozionante che avete visto allo stadio è la vicenda di Gaggiardo se per voi inizia a essere un timore una paura e su Consei Sao che potrebbe andare alla Litiad e non a noi forse migliore tra gli stranieri un abbraccio il video di questa mattina in cui vi parlo di una rivoluzione iscrivetevi anche al mio canale personale un abbraccio a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti